Musica Musica Ouvintes e telespectadores, no doben srani sirrotu, maknais Jesus Cristo adomi. Ouvintes e telespectadores, no doben srani sirrotu, maknais Jesus Cristo adomi. Ouvintes e telespectadores, no doben srani sirrotu. Ouvintes e telespectadores, no doben srani sirrotu. Musica 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 ma canarra la lehan no inferno la lehan ma fatigna nevek solo bai ma hoto hotu no inferno ma fatigna neve ba emme hirak neve hallo sala no la bella converte nina an ato bamoris solo colos belun roben sira i he emme hirak nevek solo balun hak solo ato sira vele hare naroman nana romang idane nadilang i he sire nini matan emme hirak nevek haturo justisa ba emme mukit sira sira sei hare fitung nina naroman tinambatina idane makliburu daniel nian hakarak transmiti maita i he domingo ksolo kidane i he segundal leitura san paulo nina karta ba emma ebreu wansira lhe liu iha capítulo sanolo versiclo sanolo resingida to sanolo resinghat no continua bai iha sanolo resinghalo apresenta bai ita quando va diferència entre nai lulik sira i ha testamento tuan no nai lulik bot i ha testamento fom san paulo sanolo resinghat no nai lulik sira i ha testamento tuan sira nini knar makasai sacrificio bamaroma maibbe sacrificio idanebe oin idadeed no sentido sacrificio idanebe labele kasu emani nia sala leitura sanolo resinghat Nii leitura sanolo nosia samana sera lilipacotok no continuano fa đến San Paolo ha dato l'attenzione a noi e la visione che ci sono piccoli di testamento. Gesù Cristo, ci sono chiusi di faroltare a noi e ci sono andati a noi. Grazie a tutti. Come ci sono chiusi di Cristo, ci sono chiusi di faroltare a noi e siamo nati a noi. A noi e ci sono chiusi di faroltare a noi, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.